Grazie Andrei, grazie di cuore, grazie a tutte le donne e gli uomini di Philip Morris e Eugenio, ovviamente a tutte le lavoratrici e i lavoratori che in questa fabbrica avranno modo di mostrare il loro valore. Il primo pensiero, Andrei, credo che tu sia d'accordo, va innanzitutto alle donne e gli uomini che hanno costruito questa fabbrica, a chi ci ha lavorato, agli ingegneri, agli architetti, agli operai, ai manovali, ma lasciatemelo anche dire agli amministratori territoriali, cioè a quelli che, c'è qui il sindaco naturalmente di Valsamoggia, un comune che si è messo insieme, che è più forte insieme al presidente della regione e lasciatemi dire un pensiero particolare, penso che l'abbiamo fatto nell'occasione della prima pietra, credo che sia giusto farlo oggi a chi non c'è più, come Giacomo Venturi, che ha dedicato molto tempo e tanta passione per questo progetto. Oggi è un giorno di grande festa, Philip Morris aveva garantito che avremmo rispettato i tempi, io avevo fatto lo splendido dicendo torno appena fate l'inaugurazione, e la notizia è duplice. Da un lato c'è un'azienda, un'azienda internazionale straordinaria, una multinazionale, che viene in Italia, investe, fa un grandissimo investimento dal punto di vista economico e in Italia si possono mantenere e rispettare i tempi. L'altra notizia è che in Italia per 20 mesi un governo continua a lavorare e questa è ancora più grande come notizia perché è sorprendente. Battute a parte, che cosa abbiamo qui? Abbiamo una storia che è innovazione, una storia che è responsabilità, una storia che crea assunzioni e posti di lavoro, che lavora insieme, più forte insieme significa con le forze sindacali che hanno firmato proprio in queste ore un accordo importante per lavorare 24 ore su 7 giorni, con le forze del mondo di Confindustria, saluto Vacchi, Marchesini e tutti gli imprenditori di questo territorio, con la Coldiretti, saluto Gesmundo, e tutti coloro i quali lavorano nel settore del tabacco che crea posti di responsabilità e di lavoro in alcune zone, in particolar modo, del nostro paese, ma che è anche uno scommesso sulla qualità della vita, lo ha detto Andrea in modo molto chiaro, rispetto a ciò che ci attende. Mi diceva adesso che in Giappone circa un milione di persone sono passate al fumo responsabile, possiamo definirlo così, non vorrei adesso utilizzare parole meno che corrette, e questo è un fatto molto positivo, molto importante, garantiamo come governo e come autorità italiane la massima attenzione perché nel rispetto delle regole ci sia una grandissima spinta alla qualità e alla ricerca scientifica, da questo punto di vista massima disponibilità da parte nostra. Infine, e vado rapidissimo, c'è un elemento in più che è quello del vostro slogan, più forti insieme. Venti mesi fa le cose stavano un po' peggio di oggi per l'Italia. Il segno non era più, era meno. Il segno del PIL, il segno degli occupati. Oggi noi non siamo soddisfatti, non siamo ancora contenti, ma in Italia il meno è diventato più. Ed è un fatto positivo, è diventato più sul PIL, è diventato più sull'occupazione, c'è qui il ministro del lavoro, è diventato più non grazie al governo, ma grazie a chi crede in questo paese e ci investe quotidianamente. La ripresa non la fa un governo. La ripresa la fanno le donne e gli uomini che anziché lamentarsi e piangersi addosso si tirano sulle maniche e ci provano. Naturalmente tutto ciò richiede una cornice di investimenti, di lotta alla burocrazia, di semplificazione, di riduzione delle tasse, che è quello a cui il governo deve provvedere. Ma la ripresa, il fatto che siamo passati dal meno al più, è un fatto oggettivo, rilevante, importante per il nostro paese. Philip Morris oggi segna un più, qua. E noi ci auguriamo che sia sempre di più un messaggio che dal Valsamoggia, dalla provincia di Bologna, possa arrivare in tutto il mondo. Forti, forti perché non c'è alternativa alla forza. Non ci prendiamo in giro, non ci raccontiamo storie che non sono vere. L'Italia è una grande potenza mondiale. E Eugenio ricordava prima che siamo al settimo posto e che puntiamo al sesto. Magari, ci proviamo. Ma la cosa più importante e interessante per me è che ci sia la consapevolezza da parte delle donne e gli uomini che vivono l'Italia, che noi abbiamo una forza straordinaria. Lo è una grande multinazionale come quella che ci ospita, lo è questo territorio. Caro Presidente Bonaccini, voi avete una responsabilità verso il resto d'Italia. Ed è una responsabilità della quale so che siete edotti e certi, ma è una responsabilità importantissima. Qui la ripresa è già arrivata, grazie a voi, anche se possiamo fare meglio, ma dobbiamo accompagnare il resto del Paese a crescere davvero insieme. Ed è l'elemento chiave. Io ho molto apprezzato che nel suo intervento il vostro amministratore delegato abbia cominciato da una pagina triste per noi, per tutti noi, la pagina del terremoto. domani ricorderemo il primo mese. Trovo che la memoria sia importante, ma ogni giorno che ci allontana da quell'evento non toglie niente al dolore delle persone che hanno perduto un familiare, un fratello, un figlio, un genitore. Dunque la priorità numero uno è quella di farsi compagni di strada, di farsi carico delle sofferenze di questi nostri connazionali. Quasi 300 persone non ci sono più ad Amatrici, ad Accumuli e ad Arquata del Tronto. E allora noi abbiamo il bisogno, la necessità di dare un segnale forte di vicinanza. Oggi con Vasquerrani, che è qui nella veste di Presidente che ha dato in là all'investimento, ma che ci sta aiutando e lo ringrazio con grande passione e professionalità nel ruolo di commissario. Abbiamo presentato il progetto concreto insieme alla protezione civile di quello che attenderà quel territorio. E noi andremo avanti con grande convinzione e con grande determinazione nella giusta direzione con il territorio del Lazio e delle Marche. ma c'è bisogno di fare di più insieme davvero. E allora per fare di più insieme, per sconfiggere ciò che purtroppo sembra impossibile sconfiggere, vale a dire la rassegnazione, in qualche modo l'idea che non ci sia più futuro è fondamentale che tutti insieme ci mettiamo a lavorare e partendo dal messaggio più forti insieme. abbiamo la consapevolezza che se l'Italia fa quello che può fare, quello che deve fare, quello che sa fare, le cose accadono. Ho chiuso 20 mesi fa eravamo qua, anzi non eravamo qua, ma eravamo qui vicino, c'era una prima pietra e allora abbiamo fatto gli splendidi domandandoci sì, vabbè, la prima è importante, però quella più importante è l'ultima. Oggi che l'ultima pietra è stata posta e che questo stabilimento è operativo, che questo stabilimento dà lavoro, crea ricchezza, offre opportunità, è un punto di riferimento per la Philip Morris, c'è da dire che l'ultima pietra non vale mica niente. La vera pietra, quella più importante è la prossima. È una pietra fatta di valori, innanzitutto, perché questo territorio è un territorio pieno di valori che non sono economici, sono innanzitutto valori relazionali, associativi, culturali, educativi, di qualità della vita. È una pietra fatta di passione e di investimenti per il futuro, una pietra fatta, lo ha detto Andrea, di qualità e responsabilità, ma anche una pietra che mi piace pensare che abbia tre colori, il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera. Noi siamo orgogliosi di ospitare in questo territorio tante multinazionali, ma pensiamo che queste multinazionali scelgano l'Italia perché credono a un made in Italy che non è soltanto il made in Italy della manifattura, pur importantissimo, è il made in Italy della qualità, del lavoro e della vita che ci vogliamo tenere stretto. Con questi principi e con questa assunzione di responsabilità dico grazie alla Philip Morris per questo investimento, aspettiamo i prossimi e non soltanto della Philip Morris, ovviamente non vorrei rovinare il bilancio, ma dico anche che se c'è un paese che è forte del proprio passato e ha una disperata voglia di futuro, questo paese è l'Italia perché sa che più forti insieme non è uno slogan ma è una carta di identità di quello che siamo e di quello che dovremo essere. In bocca al lupo tutti noi. grazie. Applausi Grazie. Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.